Ehi la! Anche oggi siamo in valle Santa Felicità e andremo a fare il 952, un sentiero famosissimo, non vi dico niente, preparatevi! Quindi come l'altra volta iniziamo e partiamo dal 180 che parte da qua. 500 metri sulla sinistra inizia il nostro sentiero. Pronti? Perché questo è numero uno! Vai! Eccoci qua! Dopo 500 metri abbiamo il bivio del 952. Curiosità, dovete sapere che questo sentiero ha un nome particolare. Vi do un indizio. Dai, un altro indizio perché se non ho capito. Avete capito come si chiama? Si chiama il cavallo! Il cavallo! Eccolo qua! Il cavallo! I dannati del cavallo! Mamma mia! Non ci resta che partire! Preparatevi perché questo è super strong! Via! Come vi ho detto questo è una bestia che ha il cavallo! Vi dico che che in in 500 metri stiamo andati su di 150 metri. È tosto! È tosto! Scusate è anche un po' buio stasera. Non va bene lo stesso? Andiamo! Dai, dai, dai! Qui il panorama lo vediamo all'inizio. La vallata. perché l'ultimo tratto è tutto bosco. Scusate ma è duretta. È tutto bosco e arriviamo sulla strada che porta a Campo Solagna. Quindi il nostro amichetto cavallo si porta su e quindi cavalchiamolo sto cavallo! Dai! Dai! Arrivo! Arrivo! Cucu! Andiamo su! Ciao ciao! Stiamo per arrivare alla prima tappa che è questa qua. La schiena del cavallo. Andiamo a vederla perché c'è un panorama bellissimo. Andiamo! Eccoci sulla schiena del cavallo. Guardate. È vista la vallata. Andiamo a vedere. Mamma mia che bello! Eccoci qua! Schiena del cavallo. Qua ho portato un bel libro e venite a leggere. Poi il cavallino diventa un po' rabbioso adesso eh! Si impenna! Andiamolo là! Vai! Ecco così rende di più. Il cavallo si impenna ragazzi! Non sembra! Ma la tiraccio è come! Adesso andiamo verso il bosco. Su su! Mentre arriva la notte. Vedete? Comincia un po' le lucine sotto. Voglio dirvi una curiosità. Qua fanno una gara. Una crono scalata che parte dal cartello che abbiamo visto giù e arriva alla strada dove vedrete. C'è una campana. Qui quando si arriva si suona la campana e si cornometra il tempo. È una gara molto interessante e bella. E se non sbaglio la faranno a novembre di ogni anno. La fanno a novembre di ogni anno sì. Quindi andiamo su noi. Anche se stasera non c'è la campana. Arriviamo lo stesso. Speriamo prima la faccia buio eh! Anche questo! Anche questo mettiamo! Un cavallo rabbioso! È la prima volta che la faccio di sera. Vedete le lucette qua? È il suo fascino eh! Vengo giù con la piletta. La prima volta che la mostro. Andiamo perché il buio avanza vedete. E andiamo avanti. Andiamo sempre! Ecco qua volevo portarvi prima del buio alla nostra amica la Priabea. È la seconda tappa del cavallo prima della fine. Priabea. Cosa è la Priabea? È un riferimento che c'è da una vita perché è un sassone. Se lo vedete poco portate pazienza. È un sassone gigantesco. Bene! Adesso dritti. Dritti fino all'arrivo. Andiamo. Abbiamo visto tutto? La schiena Priabea. E adesso arrivo. Andiamo! Eccoci! Eccoci! Arrivati! Qua siamo sulla strada. Qua si va a Campo Solagna. Attenzione! Stasera buio e pioggia. Lucetta. Così mi vedete. Allora partenza da Valle Santa Felicità. Sentiero 952. Il cavallo. Udite udite. Un attimo che guardo i dati. 2,57 km partendo dal parcheggio con dislivello di 572 metri. Quali scale! Quali scale! Guardate che chiusura che faccio da sera. Con la piletta al buio. Adesso me la metto in testa e vado giù. Comunque grazie a tutti. Condividete tutto quello che volete. Mettete mi piace. Anche Instagram. Grazie, grazie, grazie. Siete sempre più numerosi. E... Ehi! La! Sono seduto sulla schiena del cavallo. Ma se questa è la schiena, quello cos'è? Il Q? E di là c'è la vallata. E quindi il cavallo se gli scappa c'è la vallata, la gente sotto, il parcheggio... Vabbè dai! Tanta fortuna amici! Ciao!